Musica Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione dal territorio. Numerosi cittadini si sono presentati all'udienza preliminare del processo agli ex vertici della Banca Popolare di Vicenza per chiedere di costituirsi parte civile. Non ci sono comunque stati momenti di tensione o proteste particolari, a parte qualche striscione. Oltre alla stessa Banca Popolare di Vicenza, gli imputati sono sette per aggiottaggio e ostacolo alla vigilanza. Tra loro l'ex presidente Gianni Zonin e l'ex direttore generale Sorato, la cui posizione è stata stralciata per motivi di salute. Anche Banca Italia ha presentato la richiesta di costituzione di parte civile nei confronti degli ex vertici della Banca Popolare di Vicenza alla prima udienza in corso davanti alla GUP. Secondo alcuni dei legali di parte civile, alla fine le richieste di costituzione di parte civile saranno tra le 7 e le 9 mila. Un caso di cronaca dalla veronese in preda ai fumi dell'alcol ha aggredito la sorella tentando di soffocarla. La donna è riuscita a chiamare il 112. I fatti sono accaduti a Verona. Quando i militari sono arrivati sul posto, hanno trovato la porta dell'appartamento sfondata su pellettili e cibo a terra, i vetri degli specchi infranti. L'uomo, 26 anni, marocchino, ha aggredito anche i carabinieri. È stato immobilizzato e arrestato per violenza, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Protesta di 24 ore nella sanità. In tutta Italia saltati interventi e visite. Sentiamo nel prossimo servizio i numeri dell'adesione a questa protesta e perché i medici sono entrati in sciopero. Adesioni superiori ad ogni previsione con punte dell'80% allo sciopero nazionale dei medici e dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale. La stima è dei sindacati medici. Le sigle sindacali hanno diffuso una nota. La partecipata adesione, che al netto dei contingenti minimi obbligati a rimanere in servizio per garantire le urgenze, ha toccato punte di adosione dell'80%. Il sitino a Roma, davanti al Ministero dell'Economia, le altre 50 iniziative simili organizzate per l'Italia, testimoniano coscienza dell'importanza della posta in gioco. Vale a dire, sottolineano, contrastare una condanna morte annunciata della sanità pubblica che sta travolgendo insieme i diritti dei cittadini che vedono sottrarsi prestazioni giorno dopo giorno o trasferirle a carico delle loro tasche e quelli dei medici e dei dirigenti sanitari, dei quali il ruolo, dignità e valori professionali sono marginalizzati in una logica di abbandono. Una giornata nera per la sanità, che ha scelto questa protesta per far sentire la sua voce e portare l'attenzione verso un settore indispensabile per la comunità, un settore che sta soffrendo da troppo tempo. I camici bianchi contestano l'insufficienza del finanziamento previsto per il Fondo Sanitario Nazionale 2018, esiguità delle risorse assegnate ai contratti per i ritardi nei processi di stabilizzazione del precariato. A Padova manifestazione di solidarietà per Walter Onichini. Guardiamo alcuni momenti della serata di ieri. Si sono dati appuntamento davanti alla stazione di Padova e uniti in corteo hanno sfilato fino al Tribunale di Padova. Una manifestazione serale di solidarietà per esprimere vicinanza a Walter Onichini, l'imprenditore della provincia di Padova che rischia di finire in carcere per cinque anni con l'accusa di tentato omicidio per aver sparato ad un ladro nel 2013, ladro entrato nella sua proprietà. Per le strade della città il corteo sfilava al grido di Onichini libero. L'opinione pubblica non condivide le accuse che gli vengono mosse e tutti si augurano che nel corso del procedimento penale le accuse nei suoi confronti cadano. Onichini, dopo aver ferito il ladro, lo aveva caricato in auto per portarlo all'ospedale, ma durante il tragitto lo aveva abbandonato perché il ferito lo aveva minacciato, costringendolo a fermarsi e a farlo scendere, che sarebbe stato accompagnato, gli aveva detto, al pronto soccorso dai complici. Per il PM, invece, il ferito sarebbe stato abbandonato volontariamente. Alla manifestazione erano presenti numerosi veneti rimasti vittime di rapine e aggressioni in casa propria. Tra loro anche persone anziane, selvaggiamente picchiate, persone violate nel fisico ma anche nell'animo e tutti erano uniti nel chiedere che la difesa sia legittima. Un traffico di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche tra l'Italia e l'Africa è stato scoperto dal Nucleo Investigativo e Polizia Ambientale e Agroalimentare e Forestale dei Carabinieri di Vicenza, a seguito di una complessa e articolata attività di indagine disposta dalla Procura. Nell'operazione sono stati identificati sette soggetti di origine nigeriana che tra il 2016 e il 2017 hanno raccolto in attività commerciali del centro e nord Italia apparecchiature elettroniche fuori uso. I materiali venivano stoccati in un magazzino della provincia di Vicenza a Castegnero e infine venivano caricati in container imbarcati su navi in partenza dal porto di Genova e diretti in Nigeria. Le indagini hanno accertato che sino ad ora sono stati già spediti in Africa almeno 30 container. Incidente stradale in provincia di Vicenza questa mattina difficoltose le operazioni per salvare una donna ferita rimasta intrappolata nell'auto bloccata da numerosi arbusti. Ecco le immagini. Una donna rimasta ferita gravemente in un incidente stradale avvenuto questa mattina in provincia di Vicenza. Lungo la strada provinciale 8 che collega Sossano a Orgiano, l'auto che stava guidando è uscita di strada finendo dentro ad un fosso. La macchina, una Renault Modus, è rimasta incastrata tra gli arbusti e la donna ferita era bloccata dentro al veicolo. Sono giunti sul posto i vigili del fuoco che con difficoltà sono riusciti a liberarla. Per trasportarla all'ospedale, considerata la gravità delle ferite, è stato fatto atterrare l'elicottero del SUEM. Ieri una donna è morta cadendo dal ponte della Valgadena che delimita i comuni di Enego e Fozza sull'alto piano di Asiago. La vittima, una ragazza di 20 anni, di Rosà, nel tentativo di raggiungere la zona centrale del viadotto, è scivolata lungo la Scarpata facendo un volo di 40-50 metri. Sul posto, oltre alle squadre di soccorso alpino, i carabinieri che ora stanno svolgendo delle indagini. Viste le difficoltà di risalire lungo il pendio coperto da neve e ghiaccio, la salma è stata recuperata diverse ore dopo con l'autoscala dei vigili del fuoco. Dopo mesi di indagini, la polizia di Vicenza ha chiuso il cerchio sulla rapina avvenuta lo scorso 9 marzo nel quartiere di Parco Città ai danni di una donna di 55 anni. Era stata aggredita alle spalle mentre citofonava l'anziana madre. Era stata presa a calci e pugni, spinta a terra e derubata di una collana d'oro che portava al collo. Il rapinatore, che era mascherato, l'aveva colpita anche in un secondo momento per tentare di strapparle la borsa senza riuscirci in questo caso. Ad aprile gli agenti della mobile avevano arrestato a Padova un tunisino di 30 anni, ritenuto l'autore dell'aggressione. Ieri gli agenti della mobile di Vicenza hanno arrestato anche un 28enne che non avrebbe partecipato direttamente alla rapina ma avrebbe atteso il tunisino in automobile. Poi nella stessa giornata avrebbe effettuato la consegna della collana ad un negozio comproro di Padova. Parliamo ora di una grande novità che riguarda i trasporti della città di Padova e della sua provincia. È stato emanato un bando per l'affidamento dei servizi, previsti miglioramenti sulla qualità ma anche dal punto di vista dell'innovazione. Vediamo alcuni momenti della presentazione di questo bando e sentiamo le voci della provincia di Padova e della comune di Padova. È stata indetta dall'ente di governo una gara europea per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale del bacino territoriale della provincia di Padova, un bando che prevede grandi innovazioni e servizi per la comunità. Gli obiettivi e le strategie della provincia di Padova e del comune di Padova per migliorare il sistema della mobilità pubblica sono stati illustrati in una conferenza stampa alla quale erano presenti il presidente della provincia di Padova, Enox Soranzo, il consigliere provinciale delegato ai trasporti, Elisa Venturini e il vice sindaco di Padova, Arturo Lorenzoni. La concessione avrà la durata di nove anni. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del 22 maggio 2018. L'orgoglio di aver portato a termine una sfida importante, un bando che arriva primo in Veneto, ma arriva soprattutto con il cambiamento di un sistema che di fatto oggi lo vedi come un'opportunità, ma sembra non tra le migliori opportunità di trasporto della nostra cittadinanza. Domani, quello che speriamo sia giudicato, è un servizio che è un servizio, come l'abbiamo anche scritto, servizi per la comunità, formato da rete, da tariffe, da geografia, da tecnologia, ma che sia un sistema che fa desiderare di utilizzare il trasporto pubblico perché i mezzi sono nuovi, sono comodi, sono in orario, sono efficienti, non inquinanti, sono anche sicuramente comodi per chi magari porta un grado di disabilità, ma che di fatto l'utente sempre è unico. E questo è un piano che vede parlare la stessa lingua in modo reciproco, dove l'utente può scegliere la propria tariffa a seconda di quale utilizzo vuole fare anche quotidianamente, nell'interno di un imbaccino unico che è quello della provincia di Padova, quindi dal più comune capoluogo fino al comune più piccolo della nostra provincia, in maniera assolutamente sinergico nella qualità del servizio e delle infrastrutturazioni. L'auspicio è che ci possa arrivare una società di servizi che dia un servizio di trasporto pubblico e che sia all'altezza delle aspettative dei nostri cittadini. Quello che noi abbiamo cercato di fare come provincia è quello di raccogliere le istanze che provengono dal nostro territorio, cercare maggiori collegamenti, cercare di potenziare il servizio che viene dato con una maggiore cadenza, con dei mezzi nuovi rispetto al passato, dei mezzi che rispettino l'ambiente, ad emissioni zero, basse emissioni. Un servizio che guarda anche alla nuova strumentazione, si entrerà in autobus con lo smartphone, quindi è una realtà in evoluzione, quindi non ci saranno magari più biglietti con cartacee come li vediamo ora, ma nei prossimi anni ci sarà una grande trasformazione. Ma sì, noi abbiamo trovato il bando preparato, pronto, praticamente chiuso. L'auspicio è che si possa comunque attivare delle politiche di innovazione per portare il trasporto pubblico locale a Padova ad essere il mezzo preferito da tutti quanti per accedere alla città. Questo è veramente l'auspicio. C'è un'innovazione fortissima a livello tecnologico nel campo del trasporto pubblico. L'augurio è che il nuovo gestore sia un partner di qualità per questa amministrazione, per fare di Padova una città al passo con i tempi nella mobilità sostenibile. La Guardia di Finanza di Venezia e Pisa ha smantellato una vasta organizzazione internazionale di stupefacenti. Dalle prime ore di questa mattina, 80 finanzieri hanno dato esecuzione al provvedimento cautelare emesso dal GIP del Tribunale di Venezia su richiesta della direzione distrettuale antimafia della Procura nei confronti di 12 persone responsabili di un grande traffico di droga tra Albania, Macedonia e numerose province del nord Italia. L'ordinanza ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di 9 soggetti di nazionalità albanese. E adesso è arrivato il momento di dare spazio alla rubrica Fisco Pop che vi ricordo trovate all'interno del nostro telegiornale nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì. Lo spazio con le notizie sul Fisco curate dal ragionier Alberto De Franceschi esperto tributarista e le interviste in apertura di Nicola Brugiolo. Scopriamo allora in quale piazza del Veneto erano presenti le telecamere di Fisco Pop. Oggi siamo a Venezia e sentiremo cosa ne pensano i veneziani e non solo, in merito a Fisco, economia e lavoro. Al giorno d'oggi signora ci sono molte famiglie che sono in difficoltà perché non hanno nessuna entrata economica, quale un lavoro o una rendita. Secondo lei quale sarebbe una misura per poter aiutare queste famiglie? Più posti di lavoro, giustamente, più posti di lavoro e che aiutasse le famiglie. Il governo dovrebbe aiutare le famiglie, sinceramente. Mi ha pensato così, perché adesso i giovani potrebbero più lavoro, ma però parli come che si venisse a Bangladesh, i cinesi. E ora tutte le risorse le buttate da altre parti. Comiglia, intanto diminuiamo un pochino le tasse perché non ce la facciamo con queste cifre qua. e poi, insomma, fornire un po' di lavoro, un po' di lavoro in più. L'unica è un'entrata che il governo dovrebbe dare a fondo perduto a coloro i quali non hanno disponibilità a mantenere, ad avere un minimo dignitoso per poter vivere. Non lo so, forse chi ha tanto dovrebbe condividere di più. Non è una genialata chissà cosa, però mi viene proprio da usare il buonsenso. Per aiutare le famiglie non penso che ci siano molte scelte, perché il momento che stiamo vivendo non è uno tra i migliori, però penso che non sia un problema di adesso, sia un problema di sempre. Ogni epoca che passa c'è sempre la stessa situazione di sopportazione, di gente che magari, io sono convinto che non è vero che poi stiamo peggio di prima o stiamo male, perché se ci guardiamo bene in giro, vediamo che tutti quanti ci muoviamo ancora, cioè andiamo dove c'è da andare, facciamo lo stesso le ferie. Con gli articoli 25 e 26 il governo interviene in materia di lotta alla povertà. Per prima cosa si prevede una estensione della platea dei beneficiari del REI, ovvero sia del reddito di inclusione, aumentando inoltre l'aumentare fino ad un massimo di 534 euro. Il REI è una prestazione in favore alle famiglie più disagiate, per le quali è previsto un contributo economico, ora fino a 534 euro e per un periodo non superiore a 18 mesi. Per poter accedere al sussidio, il nucleo familiare deve avere un ISEE inferiore ai 6.000 euro e almeno uno dei seguenti soggetti, un minorenne, una persona con disabilità e almeno un suo genitore o un suo tutore, una donna in stato di gravedanza accertata, un componente che abbia compiuto 55 anni e si è disoccupato. Con la modifica proposta non sono più previste circostanze specifiche legate alla disoccupazione. La platea dei beneficiari del REI è di circa 500.000 famiglie in Italia. L'articolo 26 invece riconosce un contributo sotto forma di credito di imposta per le regolazioni relative ai progetti effettuati dalle fondazioni finalizzate alla promozione di un welfare di comunità attraverso interventi e misure di contrasto alla povertà e alle fragilità sociali, al disagio di famiglie con minori, alla domicilitarietà delle cure degli anziani e agli disabili e alla dotazione di strumentazioni per le cure sanitarie, all'inclusione socio-lavorativa, alla promozione dell'occupazione. Il credito di imposta è pari al 65% delle erogazioni effettuate, a condizione che le erogazioni siano utilizzate dai soggetti richiedenti nell'ambito non di attività economica e commerciale. Facciamo rispondere mio marito che parla meglio l'italiano. non è una genialata chissà cosa, però mi viene proprio da usare il buon senso. Bella domanda, ma su due piedi così non è una cosa molto semplice. Ci sarebbero da prima cosa, dovrebbero ridurre molto i loro privilegi dei parlamentari, secondo me, perché diciamo loro hanno lo specchio proprio di quello che magari tante persone non hanno. e quindi iniziare un po' da lì e poi tante cose sui sociali che devono essere molto drastiche, dure, perché altrimenti cose semplici non hanno efficacia, secondo me. Lei o qualche suo familiare fate uso dei mezzi pubblici? Sì, abitando a Roma purtroppo sì, quindi la macchina è un po' un problema perché stiamo sempre in mezzo al traffico, quindi utilizziamo molto i mezzi pubblici. Il costo di questi mezzi pubblici nel suo budget annuale è influente oppure non se ne accorge? No, me ne accorgo, me ne accorgo perché è notevole e quindi insomma in una spesa di una famiglia con due, tre persone, figli compresi, vanno a scuola o meno, è un grosso problema insomma avere un budget annuale di una famiglia, insomma di due persone che lavorano o se lavora una persona sola. Per oggi da Venezia è tutto e la prossima volta ritorneremo a Padova. Prosegue il nostro spazio dedicato all'informazione. Nell'edizione di questa sera abbiamo un ospite speciale che vedete al mio fianco, il dottor Raffaele Ferragina, amministratore di Profexa. Buonasera. Buonasera. Allora, un'azienda che si occupa di qualcosa di speciale, soprattutto in un momento piuttosto difficile a livello imprenditoriale. Vuole spiegare lei che cosa fate? Sì, volentieri. Noi ci occupiamo di supportare le aziende nello sviluppo organizzativo, nella crescita, l'investimento sulle proprie risorse umane e quindi nello sviluppo sia del business sia dell'organizzazione, quindi l'efficacia e l'efficienza delle aziende. Ecco, quindi voi in questo momento avete anche un po' una fotografia, una panoramica dell'attuale situazione economico imprenditoriale. Possiamo dire di essere usciti dalla crisi economica? Sicuramente abbiamo una panoramica perché lavoriamo con centinaia di aziende piccole, medie e grandi e dal nostro punto di vista, dal nostro osservatorio quotidiano sul campo, direi di sì, le aziende stanno veramente iniziando ad assumere, si stanno riorganizzando, stanno investendo ed esportando sempre di più. Credo che questo sia un momento molto molto importante in questa fase economica. Ecco, possiamo dire una fase di ripartenza? Sì, una fase di ripartenza è neanche troppo lenta. È probabile che molte persone ancora non la vedano, non la vedono perché c'è bisogno, diciamo così, che impatti ancora di più sul tessuto economico, ma è forte e secondo me molto presente. Ecco, noi approfittiamo della sua presenza proprio per andare diretti al nocciolo di tanti problemi che ci sono, anche se abbiamo purtroppo poco tempo. Qual è il segreto per affrontare al meglio questa congiuntura economica e far funzionare bene la propria azienda? C'è un segreto? Di segreti ce ne sono tanti, che poi per fortuna sono sempre meno segreti. Sono sempre meno segreti perché c'è chi ha già sperimentato delle strade e riesce a mettere a disposizione delle altre aziende, degli altri imprenditori, degli strumenti, delle risorse. La cosa più importante è che noi in questi anni abbiamo visto funzionare, perché anche nei periodi di crisi più difficili, più impegnativi, c'erano comunque delle aziende che funzionavano, è anticipare i tempi, innovare, andare, guardarsi intorno e cercare quello che c'è da fare, da cambiare, da modificare. Quindi innovazione continua, cambiamento continuo, anticipare i tempi. Ecco, quindi lei tiene dei corsi di formazione. Quanto importante è partecipare a queste iniziative e quali sono i benefici che possono arrivare all'imprenditore? Perché tante volte magari non si è portati a dire ma no, ma sì, ma andrò. Invece ci sono tantissime persone che partecipano e che sicuramente hanno dei risultati. Sì, lavorando con gli imprenditori, io ritengo, noi riteniamo che la classe imprenditoriale italiana sia fatta di persone gambissime, persone capaci, persone che nonostante tutti i vincoli che conosciamo e adesso non ci addentriamo, riescono a fare impresa, riescono ad esportare, riescono a far funzionare la propria organizzazione. Le nostre piccole e medie imprese sono invidiate all'estero. Quindi vuol dire che abbiamo veramente delle grandi risorse. Forse c'è un unico difetto delle nostre imprese. Faticano a mettersi insieme. Faticano a mettersi insieme e a costruire insieme qualcosa di nuovo. Sono ancora legate alla propria dimensione aziendale. Ecco, quello che noi vogliamo fare, noi abbiamo un percorso, siamo portando avanti un percorso, che si chiama Capitani di Futuro, che vuole mettere insieme diversi imprenditori, piccoli, medi e grandi, che hanno l'obiettivo di mettere a disposizione, mettere a sistema le esperienze, le competenze di ognuno di loro per accelerare i tempi di crescita e di evoluzione. Ecco, poi c'è il nuovo che avanza, quindi il mondo dei giovani che si affaccia al lavoro. E allora io vorrei proprio rivolgere uno sguardo anche a queste nuove figure. Innanzitutto, imprenditori si nasce o si diventa? Io ritengo che imprenditori si nasca, ma lo si può diventare più velocemente. Intendo, ce l'abbiamo dentro, ognuno di noi, ma acquisendo strumenti, mezzi, conoscenze, più velocemente si arriva ad aggiungere un risultato facendo meno errori, o meglio, approfittando di chi ha già fatto gli errori, imparando dagli errori degli altri. Ecco, allora un consiglio per questi giovani che vogliono affacciarsi all'attività imprenditoriale, qual è? Fatelo, fatelo assolutamente, perché fare l'imprenditore è stimolante, è un investimento su se stessi e sul futuro. Noi abbiamo nella nostra cultura questa grande capacità di fare impresa, di fare sviluppo, di fare innovazione. Il consiglio che vi do nel farlo è fate molta attenzione a lavorare con gli altri, ad essere interdipendenti, a collaborare, non rimaniamo centrati sulle nostre vecchie abitudini, sul mio orticello, la mia aziendina. Sono convinto che i ragazzi di oggi abbiano questa grande capacità. I ragazzi di oggi sono molto più abituati a fare relazione, a lavorare insieme agli altri. Ecco, alimentiamo questo e non ci ferma più nessuno. Dottore, io la ringrazio per la sua partecipazione questa sera, ha dato dei consigli importanti, spero di avere l'occasione di rincontrarla e magari apprendere qualche nozione in più. Volentieri. Grazie a lei e buonasera a tutti. Grazie. Noi proseguiamo il nostro spazio dedicato all'informazione con un servizio della redazione. Emesso un avviso di criticità con stato di attenzione per alcune aree Veneto per possibili problemi idraulici. Lo stato di preallarme emesso dal Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione è stato configurato in seguito alle precipitazioni dei giorni scorsi. In seguito all'aumento delle temperature, i livelli idrometrici dei fiumi sono saliti ad una esclusione del bacino dell'Adige. Particolare rilevanza sta assumendo la propagazione della piena lungo il fiume Tagliamento. La dichiarazione è valida sino alle ore 12 di mercoledì 13 dicembre. Acqua alta stamane a Venezia dove la punta massima di marea sul medio mare ha raggiunto i 102 centimetri alle 6,15 secondo le rilevazioni del Centro Previsioni Maree del Comune. Con questo livello, marea sostenuta con codice giallo, è stata interessata la parte più bassa del suolo cittadino a partire da Piazza San Marco. Le prime previsioni della giornata davano una massima di marea 105 centimetri. Poi il vento di Scirocco che ha interessato la città per tutta la notte è calato facendo ridurre, se ben di poco, l'altezza dell'acqua rispetto al medio mare. Vediamo cosa aspettarci dal meteo sul Veneto. Tra questa notte e domani la depressione di origine artica che da domenica si sta estendendo verso le nostre latitudini smetterà di convogliare sulla pianura Padano-Veneta correnti meridionali e poi si allontanerà verso sud-est. Il tempo sarà variabile in prevalenza senza precipitazioni con temperature di nuovo in calo. Da giovedì nuovo avvicinamento di un'altra bassa pressione dalle zone artiche persisteranno condizioni di variabilità. In chiusura voglio ricordarvi che è possibile scaricare l'app di Telecittà disponibile per i telefonini smartphone. Con questa app potete seguire in diretta la televisione, potete rivedere i nostri telegiornali e i servizi oltre agli aggiornamenti delle notizie. È tutto per questa edizione ringrazio tutti voi per averci seguito e vi auguro una buona serata domani.